Buonasera cari elettori di Live Sicilia, l'inchiesta sui grandi eventi, la grandi eventi con Nation è ancora la notizia del primo piano del nostro quotidiano online. C'è una novità, come ci racconta Riccardo Ololoverso, un imprenditore e un funzionario regionale starebbero per andare dai PM. Hanno chiesto di essere convocati e parleranno di chissà che cosa, comunque è un discorso che promette sviluppi importanti e che seguiremo con molta attenzione. Passiamo a Lars, battaglia parlamentare molto aspra sul bloccanomine, sul decreto, ci racconta tutto a Cursio Sabella direttamente da Palazzo dei Normanni. E siamo già in piena campagna elettorale per le regionali, hanno fatto il loro ingresso, la loro comparsa a Palermo, manifesti di Rosiero Crocetta che si candida e sono in bella vista un po' dappertutto in città. E questo è una novità anche dal punto di vista mediatico dell'immagine del candidato di Crocetta. Il sondaggio, ma Lombardo va via oppure no? Vi invitiamo a rispondere con il vostro parere. Il Presidente oggi ha detto che ci sono dei partiti che in qualche modo lo pregano di restare, che tirano la giacchetta, che fanno pressione. Ha detto questo come un evento negativo, però qualcuno pensa che forse potrebbe essere un evento possibile, un evento reale. Diteci cosa ne pensate, se il Presidente potrebbe restare e quindi scavalcare la data previssata per le dimissioni. Passiamo alla cronaca. Una donna arrestata per errore, ha passato una notticella, non avrebbe dovuto, ci racconta tutti in una cronaca Riccardo Loverso. E poi la città della paura, una testimonianza, un appello, una riflessione di Francesco Massaro, giornalista e imprenditore, che ci spiega come sia difficile vivere a Palermo sotto la minaccia della violenza, delle rapine e delle pistole. C'è un bambino grave al civico per un incidente, però non dovrebbe essere, anzi non è, in pericolo di vita. Ancora la storia tremenda di Trapani, della donna uccisa, un rimpallo di accuse fra marito e amante. E quest'ultima è stata fermata dalla polizia. E anche questa è una storia che promette sviluppi. Ergastoli confermati per il delitto in Garao, ancora in un pezzo di Riccardo Loverso. E passiamo decisamente a un argomento più del giro, lo sport, con Zamprini che racconta i suoi anni a Palermo. E poi una comunicazione di servizio, parte la newsletter di Live Sicilia per tenervi ancora di più informati. È tutto con i tre minuti, a domani una buona serata. Grazie. Grazie.